Noi oggi abbiamo denunciato il fatto che la prima attività imprenditoriale italiana con il maggior fatturato ancora più della Fiat è il gioco d'azzardo e il gioco d'azzardo in Italia ha avuto una grande evasione fiscale e coloro che dovevano vigilare non solo non hanno fatto il loro dovere ma la classe politica attuale l'ha addirittura premiati. Chiediamo che si faccia una normativa per regolamentare questo settore per non implementare questa speranza di tanti poveri cristi che si devono affidare a Ternalotto e soprattutto chiediamo alla politica di assumersi le responsabilità di individuare chi ha permesso e per quale ragione ha permesso che lo Stato non facesse il proprio dovere. Poi che si chiama Giovanni o che si chiama Nicola le responsabilità non possono essere valutate in un modo o nell'altro a seconda delle convenienze.